Reddimi Smart Band Pro, c'è anche scritto in russo ma qui non mi... Diciamo che questa è ancora un'unità, probabilmente la scatola non sarà esattamente quella che arriverà nel mercato italiano però noi ce la vediamo comunque, prima ci accontentiamo Esatto, tra l'altro preannuncio che in questa scatola manca il cavo di ricarica sempre per i motivi... Stavo dicendo, continuo con e poi alla fine prendo, ok Esatto, diciamo che nella scatola manca il cavo di ricarica Allora, dalla conclusione già possiamo leggere cosa? Quello che sono le caratteristiche principali quindi un display da 1,47 pollici full AMOLED, tra l'altro molto più grande rispetto alle Mi Band adesso lo vediamo con calma, poi la lettura dell'ossigenazione del sangue monitora più di 100 sport, batteria che dura circa due settimane resistente ovviamente sotto fino a 5 atmosfer e vabbè, monitoraggio della corsa, del sonno e del battito Esatto, esattamente, diciamo che la sua caratteristica secondo me principale è quella che salta subito all'occhio, esatto, è il display è un display quasi da un pollice e mezzo, un pollice 47 per la precisione AMOLED Esatto, se vuoi fare, guarda facciamo una bella cosa mettila di fianco alla Miss Marben 6, questa è la NFC per la precisione così puoi far vedere la differenza Stai diventato apprezzare la watch face di Game Boy Stupenda Dimmi watch, ma torniamo alle band Esatto Allora, adesso è complicato gestirne due gestirne due contemporaneamente, però era giusto per fare un confronto Esatto, la differenza è parecchia Sì, direi proprio di sì Non in termini assoluti, ma alla vista si vede che una è molto più grande dell'altra Mi piace di più tra l'altro il formato Questo è un formato quasi più quadrato, più quadrato di sicuro Che dà più spazio tra l'altro alle notifiche Adesso stavo toccando cose, spero di non farlo Eh, quella è l'NFC, quindi quando la togli dal polso ti chiede il codice Certo Eh sì, per sicurezza Per questa è la ridotta È una delle sicurezze di Miss Marben 6 NFC E beh Che ci sta Ci vuole anche quello Che ci sta, che ci sta Con il swipe a destra si accede ovviamente nella parte di widget quindi con il monitoraggio delle principali funzioni Il menu è praticamente il medesimo Cambia il formato delle watch face e dei menu proprio perché cambia anche il formato del display Scusate, al volo Ok, tolgo le notifiche che non ci interessano E qua tutta la parte legata all'allenamento che conta più di 100 sport Esatto Attività, notifiche, statistiche su quello che sono i nostri progressi della giornata Battito, ossigenazione, sonno Sonno che viene ovviamente diviso poi nelle varie fasi la fase REM, fase di sonno profondo, eccetera Monitoraggio dello stress Gli esercizi di respirazione se siete, non lo so, mai stressati vi fa fare quegli esercizi che vi rilassano Sì, diciamo che ti dà un ritmo Ti invita a ispirare e ispirare per un certo quantitativo di tempo Per chi è particolarmente stressato vuole un attimo di relax Ci chiedono dalla chat di me.com se ha NFC No, non ha NFC In questo momento l'unico wearable di Xiaomi con NFC è Miss Marben 6 NFC che abbiamo visto poco fa confrontata con questa Esatto Il braccialetto è sostanzialmente uguale e un po' più largo Il concetto è sempre quello Sì, con un piccolo gancetto Quindi Sì, la modalità di allaccio al polso è identica Esatto E sotto, come vedete, abbiamo la parte di sensoristica Sì, è quella classica sostanzialmente Super minimal, però la trovo veramente, veramente molto, molto bella Sì, diciamo che secondo me è una buona diversificazione Nel campo wearable Xiaomi Per dare la possibilità a chi lo desidera di avere un display più accessibile Perché magari utilizza di più la parte delle notifiche Che oggettivamente su Miss Marben 6 è un pochino sacrificata Perché Miss Marben 6 vuole essere il più discreta possibile E come sapete io l'apprezzo tantissimo Perché proprio il suo essere sottilissima e piccola a me piace molto Ma c'è chi magari utilizza di più la parte notifiche E allora un display più grande può avere un senso Ci chiedono sempre dalla chat di me.com La domanda è cinturino, punto di domanda Guarda, il cinturino lo dicevamo prima In silicone Materiale identico a quello di Miss Marben Sistema di allacciatura identico assolutamente Quindi direi tutto molto semplice sostanzialmente Proprio bello Paolo dice se il lato allenamenti ci sono gli stessi programmi Credo che abbiano aggiunto qualcosina Perché il numero è un po' aumentato rispetto a Miss Marben 6 Però ti puoi aspettare sostanzialmente un'offerta simile Probabilmente con qualche aggiunta Come dicevamo, lo ricordiamo l'ultima volta La questione prezzi Che in realtà è molto semplice Perché abbiamo un prezzo consigliato di 49,99 E poi avremo un prezzo early bird di lancio Che ancora dobbiamo comunicare Insieme alla data di lancio Che comunque sarà a breve Inizio